al nostro programma del lunedì mattina dalle 12 alle 13 destinazione sport e oggi ho un graditissimo ospite Isabella Lamberti. Come stai Isabella? Tutto bene, grazie. Emozionata? Sì, è la prima volta in radio. Ottimo, ottimo. E allora regia, che dici? Io questa canzone che vedo sul display sento che mi piace, Mariah Carey, che dici? Ce la sentiamo? E vai. Ok. Allora partiremo? Sì. Siamo anche su Facebook? Sì. Ok. Ecco qui. In questo momento siamo in diretta anche su Facebook. Ok. Le cuffie non sentono, non c'è bisogno neanche della, di una certa distanza dal microfono. In questa condizione è qua. C'è un altro tipo di... Allora, dicevamo, sei emozionata? Sì. Tu sei un'atleta? Eh, oltretutto sei un'atleta. Sì, sono un'atleta della serenità, una caccia cinque, femminile. Ah, il Granata sul cuore, praticamente? Sì. Sì. Anche se i miei colori sono diversi, però sì, la famiglia è tutta salernitana, quindi il mio dico... Che senso i tuoi colori sono diversi? Sono una sfigatata tifosa della Juventus. Oh Gesù! Quindi penso di poterlo dire, nella mia stanza c'è un maxi scudetto della Juve. Dipinto a mano, ecco. Quindi... No, nulla contro la Juve, assolutamente. Però, sai, stiamo a Salerno, si diceva della salernitana. Allora, per parco indicio c'ho nel salone il cavalluccio della salernitana, quando è andato in Serie A, perché mio zio è uno dei soci fondatori della Nuova Guardia. Ah, ok. Tu quanti anni hai? Quasi 30. Volevo dire eventi, però. Sarebbe piaciuto. Però, quindi, hai vissuto anche quel magico anno della promozione in Serie A e quindi avevi dieci anni? Sì. Sì. Quasi dieci anni, sì. Nel 99. Quindi hai visto una salernitana Juventus? Un 3 a 3. Devo dire che da sotto la maglia. Un 3 a 3. Non è... Allora mi ricordo male. No, un 3 a 3 non lo dire mai più. No, no, sono andata allo stadio, sì, sì. Sempre con mio zio nei distinti, quindi. Vincere la salernitana 1 a 0 godi di maio. Ah, allora la memoria mi inganna. No, sì, 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 sì. La salernità... Allora, a casa mia si mangiava pane e pallone. E si mangia ancora pane e pallone, quindi gli argomenti sono questi. Bene. Anche dato la fine che hai fatto tu. Sì, 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 sì. Come sempre tutte le diamo un piccolo... Un piccolo indizio, sei una calcettista. 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 Stamattina mi sono andato a cercare. Come si chiama giocatore di calcio a 5? Calcettista. Calcettista. E io voglio sapere un'altra cosa. Cioè abbiamo un altro minuto. C'è... Ah, c'è la pubblicità. Perfetto. Abbiamo tutto il tempo. Ci andiamo a prendere un altro caffè? No. 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 Allora, che differenza c'è tra il futsal realmente, tra il futsal e il calcio a 5? Allora... È veramente solo la copertura? Il calcio a 5 diciamo che è un modo più semplice per chiamare il nostro sport, però si chiama futsal. C'è chi lo chiama calcetto. Le regole sono le stesse. Sì, 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 sì. Allora il futsal è nato tanti anni fa in Brasile. Sì. Ti dico la verità, io ho fatto anche... Ho avuto ospite anche di Facundo, non qui, no, no. All'altra parte... Sì. Quindi diciamo che... Facundo Gallinare. Esatto. Diciamo che è nato da un professore di educazione fisica in una scuola dove per far giocare i bambini ha usato il campo da futsal, un pallone da palla a mano poi modificato con gli anni. Con le regole, se vedi, le partite di basket e del caccia a 5 con gli stessi schemi. Cinque. Cinque persone, uno contro uno, il pivot, le ali, il centrale e il portiere. In che anno questo? Non lo so. Sì, ma so la storia perché due anni fa, e devo ringraziare la società Progetto Sarno, dove giocavo all'epoca in Serie C, che mi ha permesso di partecipare a uno stage con la Nazionale Fix, che quindi è un'altra cosa a parte. Sempre femminile. a Bercelli, dove mi hanno spiegato la storia del futsal. Quindi c'è anche la differenza tra la Fix e il futsal, dove nella Fix cambiano alcune regole. Il pallone è un po' più piccolo, il portiere. Sì, sì, sì. Infatti mi sono trovata per un po' in difficoltà, però mi è servito come bagaglio... Perché tu sei portiere. Portiere. Esatto. Non si direbbe, però sono portiere. Sì, 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 sì. Ho una bella carriera, diciamo. Dove non mi posso lamentare. Due scodetti di UNS20 con la Salernitana, di Caccia 11, che all'epoca era unita con una società di Agropoli, quindi dove c'erano parecchie ragazze di Santi che gioca tuttora con me a Salerno. Mancano due minuti e mezzo, questa stiamo spoilerando tutto. Tagliamola un po' questa pubblicità. Stiamo spoilerando tutto, basta, sa bene. Ti vogliamo sentire parlare. Ok, va bene. Sto scherzando. Mi sono tolta le soddisfazioni. Ho fatto anche un'esperienza fuori casa, a Molfetta. Devo dire, anche quando ti ho contattato su LinkedIn, sono rimasto sorpreso del fatto che io ti ho conosciuto come quello di cui parleremo, e sono rimasto sospeso del fatto che tu sei ancora legata alla carriera agonistica. Sì. E poi ci tenivi particolarmente a venire. Particolarmente, sì. Anche se... E c'è una forte motivazione. Sì, perché io penso che il calcio femminile, ora dopo i mondiali che ha disputato la nostra nazionale in Francia, ha avuto un seguito. Ma tanti anni fa, i pregiudici si sono ancora, però tanti tanti anni fa era difficile. Molte persone dicevano, eh, giochi a calcio e allora se c'è lesbica, molti genitori non fanno venire le proprie figlie nella scuola caccio perché ci hanno ancora... C'è il progiudizio dell'omosessualità della femminilità. E si è visto anche recentemente a C'è posta per te sabato una mamma dove ha, diciamo, ha ripiudato la figlia dicendola non è normale, io sono quadrata, l'uomo deve andare con la donna e la donna deve andare con l'uomo. Quindi, diciamo che nel calcio femminile se ne parla di più, però in atti sport femminili ci sono. E certo. Palla a volo, calcio con maschi, quindi... Ma il problema non... Scusami, ma il problema non è che ci sono o non ci sono, il problema è l'ignoranza che c'è. Esatto. Quindi, sì. Nel giudicare qualcosa del genere. Perché poi alla fine siamo uguali. Certo. Oggi noi in genere parliamo nella giornata del lunedì parliamo di sport. Ok. E questo è il secondo, se non sbaglio, è il secondo lunedì nel quale parliamo di calcio. Di calcio. Che è calcio a 5 ma sempre calcio. E noi ci teniamo particolarmente a... Non so se hai dato uno sguardo a Salerno Sport 24. Spero che disisi. Sì. Sì. No, no, no. Vagamente sì. No, no, devo dire la verità. Non sono proprio i siti che mi interessano perché... È un giornale. È un giornale. Per il calcio femminile quindi diciamo, ultimamente leggo volentieri anche la gazzetta Tutto Sport. Abbiamo gli inviati che si occupano proprio di... Abbiamo gli inviati che si occupano proprio di Futsal, Calcio 5, quindi la stessa cosa per maschile e femminile. Proprio... E li abbiamo proprio divisi. Sì. 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 Proprio perché in modo che ci sia un focus particolare sulla... Sì. Poi in campagna abbiamo la Fed di Eboli. In Serie A, quindi... Un dirigente della Fed di Eboli lavora con noi. Sì. È il marito... Sergio Macellaro. Ah, lo conosco ai tempi di quando io a Eboli ho vinto il campionato che siamo saliti in Serie A2 con la... E non so se conosci pure leggevoli. Il nostro addetto alla sezione femminile del Calcio 5 che è Cristiano Vitale. Cristiano Vitale di Vallo della Lucania, se non erro. Sessa... 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 Sì. 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 Dove... proprio un'altra provincia. Sì. 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 Il mio capitano, Raffaella Ribello, che saluto, non so se mi sta ascoltando, allena i portieri dell'Acquavella. E se non mi sta ascoltando, fatti ascoltare. Sì. Domani la rimproverò in allenamento. Bravissimo. Bravissimo. E di... Eh... Vi conoscete tutte in pratica? Sì. Tra addetti ai lavori, tra... Tra giornalisti... Sì. Sì. In questo contesto ci si conosce. Anche perché noi stiamo per entrare in un discorso quando rientreremo nell'FM, che sostanzialmente a te interessa particolarmente, sia dal punto di quello del calcio, di quello che stiamo approfondendo, agonistico, ma anche quindi gestionale e media. Sì. Soprattutto media, sì. Perché comunque ho la fortuna di continuare, qualora smetto, perché non si sa ancora. Volevo smettere... Però poi smetterai. Fatte una una crucia. Sì. Volevo smettere quest'anno. Poi ho detto... Continuo. Infatti mia mamma dice quando è che metti il chiodo? Faccio... Il chiodo prima o poi lo metterai e poi... Sì. Quelle scarpette. Sì. 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 Prima si diceva per i guanti. Poi da quando mi sono perfezionata nel ruolo del portiere non uso più i guanti. Quindi dice le scarpette. Non usi i guanti? No. Nel caccia a 5, se vedi bene una partita, molti portieri non hanno i guanti. A meno che ce l'hanno, ma tagliati le dita. Quindi con i poppastelli da fuori. 15 secondi. Oppure stile vallo a volo con il cerotto rigido. E siamo di nuovo qui su Radio Castelluccio RCS 75, io Lino Grimaldia Vino con Destinazione Sport e Isabella Lamberti. Oggi nostra ospite. Siamo felicemente sull'FM, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata. Secondo me è anche un po' troppo lunga sul social perché cercavi proprio di spoilerare, di far uscire un po' tutto. Però adesso si parla soprattutto di quello che oggi sei, dicevamo, una calcettista e già stai mettendo piede su quello che è il tuo futuro. Ancora non appendi le scarpette, però oggi c'è la LTA Agenzi. LTA Agenzi, sì. Una società di consulenza nata 11 anni fa da due persone che tuttora guidano l'agenzia. Alessandro Pennestri di Napoli che tanti anni fa aveva una squadra di calcio femminile, la Domina Neavolis, dove l'ha portata fino in Serie B. Si è tolto delle soddisfazioni personali anche. E oggi, diciamo, ha archiviato questa esperienza e si è messa a servizio delle giocatrici. Noi lavoriamo con i club più importanti al mondo, Barcellona, CSI, Atletico Madrid. All'estero siamo una società di intermediazione perché in Italia siamo ancora dilettanti, quindi facciamo consulenza. E non per vantarmi, siamo stati la prima società a portare giocatrici dall'Italia nella Liga Spagnola. Sei un po' una minoraiola della Alpina. Bene, ma ne lo possiamo dire, sì, 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 sì. Come ti stavo dicendo prima, voglio sapere un po' di cifre, ma sì, dimmi un po' di cifre. Che cifre girano? Eh, cifrano a livello... Che cifrano? Allora, ti dico che negli ultimi cinque anni abbiamo fatto più di 120 trasferimenti. Salute. Quindi, sì, per noi il bene primario è soddisfare la giocatrice. Cioè, quindi fammi capire, tu segui sia il calcio a cinque, ma anche dal punto di vista agensi, calcio a cinque e... Caccio a undici. Calcio a undici, femminile. Femminile, sì. Collaboro nella gestione dei media e con gli sponsor dell'Aelt Agency Italia è della Worldwide, che è una società di consulenza per il calcio a cinque. Quindi sono due società diverse, dove appunto aiutiamo la giocatrice con i contratti, con i club, con gli sponsor. Quindi cerchiamo di... a 360 gradi forniamo dei servizi e a momento sono tutti soddisfatti, quindi si va avanti. A breve annunceremo un'altra collaborazione con uno sponsor spagnolo. Quindi, sì, io anche in questo ambito... Non si possono lamentare, non ti lamenti neanche tu, quindi anche dal punto di vista dell'orgoglio. Non voglio sapere nelle tue tasche quando ci entra, però voglio dire... Ti dico, nelle mie tasche ci entra, non molto. No, non di cifre, se no i miei responsabili mi ammazzano, quindi saluto, li ho sentiti prima di venire in radio, anzi li ringrazio anche. e girano dei soldini, però che noi mettiamo da parte per andare a vedere... Fondo cassa. Fondo cassa per andare a vedere le partite. Grande, grande. Quindi ci sono belle soddisfazioni. E adesso vi lasciamo con l'ora esatta. Siamo di nuovo sul social. Ok. E torniamo alla chiacchiera. Allora, prima di tutto, tu oggi non dovevi essere qua. Sì. Oggi ci doveva essere Francesca De Santis. Il mio direttore sportivo. Il tuo direttore sportivo. Sì, amica di... Saluto. E in bocca al lupo per il motivo per il quale non poteva essere qua. Sì. L'aspettiamo domani al campo, però, perché comunque ti devi allenare con noi. Bravissima. Ti volevo chiedere una cosa. Quindi, questa parte la approfondiamo anche dal punto di vista FM. Sei ancora qui, dietro la scrivania, non la scrivania dietro, ma quindi vedi il tuo futuro. Questo. Sì, io ho fatto... Quello della gente. A qualora smetterò di giocare, perché sono una tesserata e non posso farlo. Sì, mi piacerebbe... Qualora smetterai? Il primo o poi smetterai? Vabbè, io conosco persone che giocano ancora a 40 anni. Ah, ecco, un altro aspetto da... Sì, ovviamente, se uno si allena bene, fa un certo percorso, sì. Perché no? Per la felicità di mia madre. Questo è un altro degli aspetti da... sicuramente da... Sì, ci sono. Da approfondire. Certamente l'età non è la stessa del calcio. No, anche le ginocchia non sono gli stessi dei nostri colleghi. Non sono le stesse. Sì. Noi donne soffriamo molto di rottura del collaterale, legamento, quindi, sì. Vanno molto sotto sforzo, anche se i ritmi di allenamento sono diversi da loro. Noi comunque facciamo tre allenamenti a settimana e non sono tanto pesanti, ma sono intensi. Quindi c'è una preparazione per le partite, nel mio ruolo allenamento, quindi, sì. Quindi anche dal punto di vista dell'intensità sul muscolo, nel momento in cui c'è un incidente, il muscolo non è preparatissimo. No. Da questo punto di vista. No. Comunque è una rottura del legamento, del crociato, i sei mesi buoni ci vogliono come i maschi, però ci mettiamo un po' di tempo a recuperare al cento per cento, quindi ci vuole lavoro, lavoro, lavoro. Un genitore dietro questo, che cosa, com'è? Allora. Come sono i genitori? Ci sono gli appassionati, quindi che vengono al campo a vedere le partite, sono i nostri primi tifosi, e poi ci sono i genitori che il sabato ti dicono, mi raccomando domani giocare bene. C'è la mamma del capitano che spesso le dice vai in chiesa, quindi ci sono genitori delle gemelle Giuliano che saluto, che vengono sempre a campo, sia a Ponte Cagnale che quando siamo stati in trasfetto a Torchiara per problemi di palazzetto, e quando vedono le figlie a terra si preoccupano, proprio perché per loro è la prima stagione, è la bambina giustamente, ma ci sta, ci sta. Poi ci sono genitori come mia madre che è venuta a vedere una sola partita e poi ha detto no. Basta. Non ti voleva vedere? No, perché dice che siamo, per lei è un po' scossumate, ecco. Quindi, infatti, lei dice vai 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 in bocca al lupo e... No. Non è... Mi ha accompagnato quando sono stata a Molfetta per vedere la casa e tutto, però... No, niente. Niente, mentre mio padre si veniva, acqua, vento, neve... Si rientra. A vedere le partite al Vestudio. Siamo di nuovo qui su Destinazione Sporta Radio Castelluccio RCS 75, io sono Lino Grimaldiavino e c'è sempre con noi ancora Isabella Lamberti. Quindi, Isabella, adesso leggiamo un po' di local news, vediamo un po' che è successo nella provincia di Salerno con lo sport che, insomma, ci sta dando tanta soddisfazione. Prima di tutto, tu hai pareggiato con l'Evannus Lauria, uno a uno. Comunque è stato un pareggio importante in casa di una squadra che è quinta e in classifica, sesta. Sì, quinta e in classifica. E voi non stavate tanto bene. Noi venivamo da delle sconfitte che immeritate, se posso dirle, perché abbiamo fatto una bella prestazione sia contro il Fasano, Molfetta che sono le prime due in classifica, quindi il Fasano che non ha perso neanche una partita in campionato, il Molfetta che ne ha persa uno contro il Fasano. E il derby con la Nocerina di domenica scorsa, dopo un primo tempo ricco di occasioni, loro hanno vinto 2-0 e questo pareggio di sabato, che è un recupero, ha smosso un po' la classifica e quindi siamo contenti. Quanti derby fate? Allora, facciamo Noceria, Sarno, Irpinia. Irpinia. Tre. Tre. Vabbè, come provincia di Salerno due, quindi? Sì. Ah, ok. Quindi... Il nostro direttore nel frattempo se ne va, ciao direttorissimo, e passiamo, andiamo avanti. Nella palla a nuoto, cioè la Nantes sta dando tantissime soddisfazioni, ha vinto l'ultima partita con la Lazio, uno scontro salvezza, 12-10 e la squadra adesso è sesta in classifica. Per quanto riguarda il volley, nella pallavolo, quindi vittoria e corsaria per le ragazze del team volley della Salle del Guiscard e per le scintille cava. Vittoria anche per la volley Bellizzi, che schianta a volley sessa, per 3-0. Tra i maschi c'è la diciassettesima vittoria dell'Indomita. Continua quindi la marcia inarrestabile di Pecoraro e compagni verso i play-off. Per quanto riguarda il basket, va alla palla a canestro Salerno il derby con Bellizzi. Vittoria per Virtus Arechi Salerno con Virtus Vallomonte e chiudono con un successo anche le ragazze della Todis Salerno Basket 92. Non dico precisi, ma più o meno. Io sto parlando, devi sapere che ci sta una certa relazione con la regia. Il lunedì mattina, non è sempre lo stesso, ma il lunedì mattina con Luca c'è un sentimento di base con Luca. E io ho sempre paura che dal suo telefono partano messaggi verso i suoi amichetti che si collegano apposta per ascoltare le cretinate che dico in radio. Va di fare giusto. Non mi stanno lavorando oggi perché non mi hanno inviato messaggi dal furgone. Ah, dal furgone. Sì, dal furgone. Ah, a radio dove la puoi sentire. Sì, vabbè, anche a casa. Il particolare del furgone è interessante. Eh, sì, sì, sono lavoratori che quindi si sentono... Giusto, giusto. Ma forse lui li minaccia però perché fa di sentire Radio Castelluccio. Allora, rimanendo un attimo sulla Serenitana Calcio 5 femminile, è una squadra, già il logo, a me piace tantissimo. Devi sapere che tu sei il primo esponente di questa squadra e io è già tanto tempo che bussavo alla chat della mia amica Francesca, mi mandi qualcuno, mi mandi qualcuno, quando viene qualcuno, manca a farlo apposta, oggi ci sei tu. Sì, che onore. Tu saresti venuta la settimana prossima e lei veniva oggi, quindi addirittura erano due consecutive della stessa squadra. A me piace tantissimo il logo. Molto bello, sì, stilizzato, mi piace. Ma avete preso spunto? Allora, questo logo esiste già da anni. Perché la Serenitana Calcio 5 femminile da quanto tempo esiste? Da un 5-6 anni. Eh, è giovane. Sì, la Serenitana 6.0. È il sesto anno consecutivo in un campionato di massima serie. Quindi all'epoca c'era la Serie A unificata, dove giocava Francesca. Dopo varie riforme si è passata alla Serie A2, dove militiamo attualmente. Quindi... È regionale? No, no, no. Sempre... Sì, sì, è nazionale. Il nostro girone comprende Puglia, Basilicata e Campania. Sì, questa squadra è di Fasano. Sì, sì. La maggior parte sono pugliesi. Poi c'è Molfetta, Fasano, Grottaglie, due di Taranto. Ho degli amici a Grottaglia. Sì, due di Taranto. Siamo qui a Tarantina. Ok. La settimana prossima giochiamo contro il Taranto. E poi c'è il Lamezia e noi in Campania. È Rio Nero e Lauria della Basilicata. Rio Nero, sì, vicino a Potenza. Sì. Quindi diciamo... Mentre le altre campane stanno nel girone C. Quindi Napoli... Solo in Napoli, le altre. Solo in Napoli. Stanno nel girone C. E il mese prossimo farà la finale fuori di Coppa. Ma dici un attimo come funziona. Girone A, B, C e D. A fine campionato ci sono i play-off. Sì. Sale la prima direttamente? Le prime direttamente. Le prime direttamente? Le prime due? No, la prima di ogni girono è direttamente. Ho detto bene. Poi ci sono i play-off. I play-off. Sì. Che comprendono le prime quattro di ogni girone. Le vincente si andranno a scontrare. La serenitana femminile C5 sta messa male però. Non per i play-off. Ma io ho visto che sta... Ha preso quel punto che era importante. Sì. Quando la venusola avria. Sì. Quindi siamo tutte giovani. Di trasformazione. Esatto. Ragazze che non avevano mai giocato a caccia 5. E si sono ritrovate... Catapultate in A2. In A2. Quindi diciamo che sia per me, per il capitano, gli Santi che comunque provenivano da caccia 11 o da caccia 5. avevamo già esperienza. Mentre le altre, mano a mano... Perfetto questa cosa. Persone che non hanno mai giocato a calcio si trovano in una squadra... L'hanno giocato per strada. L'hanno giocato come tutti del resto per strada. Un campionato di Serie A. Cosa che tra i maschetti non potrebbe mai capitare. Sì. Però devo dire la verità... Perché siamo in un campionato fondamentalmente giovane. Giovane. Non giovani. Diciamo giovane, dai. Dai, è giovane. Quanti anni c'è il campionato di calcio al 5 femminile? Allora, saranno una decina d'anni. Sì. Sì, perché... La vedi. Prima, io mi ricordo, se la memoria ovviamente non mi inganna, c'è il Rissorrento. L'Isef, che aveva giocatrici che tuttora giocano in Serie A Elite. Mi viene a dire, mi ricordo, Macchia, che ora gioca ad Avellino. Mascia, che gioca a Cagliari, portiere della Nazionale Italiana. Argento, che gioca a Grisignano. Iamuno, che allena il Napoli. Stavano tutti in Campania. Pastorini, che gioca nel Francavillena 2, nel Girone B. Quindi ci sono molte persone che... All'epoca il calcio a 5 era a livello regionale. Le prime di ogni... Stiamo parlando sempre del calcio femminile. Sì. Questa cosa è ancora una volta da sottolineare. Il calcio femminile, calcio a 5 o calcio a 11, che sia, sta prendendo piede. In Italia, perché in Italia siamo sempre un po' in ritardo sulle cose da non molto tempo. Saranno due anni. Sì, perché la FIGIC finalmente, direi, ha capito che bisogna investire sul calcio femminile. Ha obbligato le società maschili, tutte le società maschili, di avere un settore giovanile e femminile. Giovanile e femminile? Sì. Partendo dall'Under 10, Under 12, Under 14, Primavera, e poi andare a formare delle squadre di prima fascia. Quindi diciamo che l'epoca, la Juventus... La pioniera proprio è stata la Fiorentina, di Della Valle. La Fiorentina... No, Fiorentina. Fiorentina. Non è un nome la squadra... Sì, allora... Un altro nome sono due. Sono due. Cioè, Fiorentina, di Della Valle, che è stata una delle pioniere, quindi... La pace femminile. Sì, per fare questa riforma con la FIGC, perché aveva, diciamo, acquistato il titolo della Fiorentina dai guagni, se non erro, però non potevano usare il logo perché non era ancora affiliata. Quindi, diciamo sì. Poi è stata la Juve a comprare il titolo del Cuneo, poi il Brescia anche, che ha fatto la Champions, ora fa la Serie C. Il Milan di Gans, la Roma... Di Gans. Di Gans. Il Milan... Simone Gans? Maurizio Gans. Simone, aspetta. L'attaccante del Milan. Gans, Gans. Gans, che è stato anche dell'Inter, in realtà. Sì. Anche dell'Atalanta. Sì. Maurizio Gans. Maurizio Gans è il figlio, allora. Sì, che gioca. Maurizio Gans. Gans, allena la formazione femminile del Milan, sono secondi in classifica. e ieri avevano il big match per andare contro la Fiorentina. Quindi, sì. Big match per il primo posto. Secondo posto. Perché la prima è della Juve, che viaggia più nuove dalle inseguitrici. Perché la Juventus si è messa in avanti. In avanti, sì. La famiglia Agnelli, sì. Ma come tutte del resto stanno investendo. No, allora ci sta proprio un discorso di voler primaggiare in tutto. Hanno anche già la squadra e-sport. Sì. Sì. Noi seguiamo anche l'e-sport. Giusto per farsi... No, sì. C'è la Roma. Sì, vi sarebbe uno sport 24. Ok. Oggi sono una vostra... Elettrice appassionata. Esatto, tutti i giorni. No, sì. Molte squadre, purtroppo, perché anche delle Laurentiis all'epoca voleva comprare il Carpisa Napoli di Lello Carlino. Però, come è uscito sui giornali, non voleva le giocatrici che ci sono tuttora. Voleva prenderle lui. E quindi in Napoli, femminile, l'anno prossimo... E' detto, no, ti voglio che stai bene. Esatto, l'anno prossimo lo potremo vedere in Serie A. Perché prima in classifica nel girone unico di Serie B. Facendo le cose al modo loro. Sì. E senza... Allenate da un bravissimo tecnico, Geppino Marino, che conosco personalmente. E ha fatto anni fa il record di imbattibilità di Napoli in Serie B e poi in Serie A, quando giocavano a Collana. Ci siamo. E si torna su Destinazione Sport a Radio Castelluccio, RCS 75. Io sono sempre in Lino Grimaldia Vino, non sono cambiato. Così come non è cambiata la mia ospite di oggi, che è Isabella Lamberti. Allora, stavamo parlando di quanto è cambiato l'approccio dell'Italia sul calcio femminile. C'è ancora tanta strada, giusto? Moltissima strada, dobbiamo diventare professioniste. Quindi è stato firmato solamente un emandamento al Senato. Da questo punto di vista cambiano anche la tipologia dei contratti, chiaramente. Soprattutto, quindi i procuratori possono lavorare tranquillamente, anche per avere alle giocatrici un supporto maggiore. Perché tanti anni fa c'erano giocatrici che erano bloccate dal vincolo. Dal vincolo, quindi sì. Ma per metterci a lavare con le altre nazioni. Ovviamente non possiamo raggiungere i livelli di Stati Uniti e Germania perché sono grandissimi. Però man mano adeguarci. Dimmi una cosa, nella tua esperienza, nella tua giovane esperienza di agente, ma non si può dire agente. Agente, no, no, no. Agente, no. Stella. Stella. Avrai sicuramente avuto modo, quindi prima mi parlavi del Barcellona. Sì, sono stata a vedere l'anno scorso, anzi due anni fa, l'Espagnol femminile. Sì. Sì, quindi l'ha dato modo di viaggiare anche? Sì, sono stata a Barcellona, ho avuto modo di vedere le loro strutture, una partita di campionato dove tra l'altro giocava una ragazza italiana che ora gioca in Milan. Quindi sì. Quindi il calcio italiano si sta muovendo? Sì, ma ti devo dire la verità, noi siamo stati i primi a portare, come ti dicevo, una ragazza nella Liga, Pamela Conti che ora allena la nazionale venezuelana. Un'altra ragazza giovanissima che era Manuela Giuliano l'abbiamo portata all'Atletico Madrid. E poi man mano, attualmente in Liga ci sta soltanto Elena Linari che gioca nell'Atletico Madrid. Un attimo solo, tu mi stai parlando anche di situazioni di squadre, anche di un certo livello. Stiamo parlando anche di, hai visto tu gli impianti di un certo livello? Come siamo messi da questo punto di vista sul calcio femminile in Italia? Allora, ci sono molte squadre che si stanno adeguando ad avere molti impianti sportivi adeguati. Ci sta il centro Suning dove si allena l'Inter femminile che gioca in Serie A, il Bismarra dove gioca il Milan, la Juventus si allena a Vinovo e gioca a Vinovo alla Continassa, quindi la Roma con i maschi, quindi... Ok, e noi passiamo ad ascoltarci Francesco Ringa. Allora, parliamo un attimo di come tu hai iniziato, perché purtroppo io sono maschio, sono felice di essere maschio, ma dal punto di vista della... C'è sempre quella cosa, una ragazza che gioca a pallone. Allora, io sono cresciuto, appunto Francesca. Nel cortile. Nel cortile e giocavo tantissimo a pallone con una ragazza, Francesca, con la quale giocavamo poi anche alla primavera. Sempre Francesca. Francesca è onnipresente. Esatto, è una ragazza bravissima. Però tu com'hai iniziato a giocare a calcio? E quando hai iniziato a giocare, quanto ti sfottevano? Dile la verità. Allora, sfottevano tantissimo. Ho iniziato a giocare a calcio sotto casa con i miei cugini e dicevano mettiti sempre in porta. Alla fine hanno fatto un piacere. Esatto, quindi vabbè, in porta. Tra due ringhiere era la mia porta. Poi, casualmente, un ex allenatore, un portiere della Salernitana, Caccia11, dove giocava Francesca, Annalisa Santucci, ha fatto la squadra a Doiara, dove vivo. Quindi, molte ragazze del paese, ci siamo veniti, abbiamo fatto questa squadra e ho iniziato a giocare così. Avevo 5-6 anni. Vedi un po'. Ora ne ho quasi 30. Sono molti, molti anni. Poi ho fatto Salernitana, Caccia11, finale sodio in Serie B, in Coppa Italia contro il Cosenza. Anche Caccia11, sì. La primavera abbiamo raggiunto importanti traguardi e come giocava Lissanti, che ora gioca di nuovo con me, dopo anni. E poi ho intrapreso la strada del Futsal, dove ho vinto due Scudetti Juniors, una promozione in Serie A con l'Eboli. Esperienza a Molfetta. All'epoca la Ferdi stava o in Serie C o in Serie B, quando noi abbiamo vinto il campionato. Salutiamo il nostro amico Sergio Macellaro, della mia redazione. Poi ho fatto esperienza a Cava, con Ciralidato, che allena il Sorrento, Molfetta, Sarno. E ora la Salernitana, dove mi trovo benissimo. La Salernitana femminile dove gioca? Noi a Ponte Cagnano, Faiano, al Palazzetto dello Sport. Quindi siete ospiti di un'altra città? Sì. Perché a Salerno? Non ci sono palazzetti adeguati al Caccio a Cinque. E al Palatulimieri? Hanno giocato diversi... Cioè là c'è l'Alma Salerno? Sì, ma anche la Salernitana l'anno scorso, gli anni fa, ha giocato a Palatulimieri. Però poi per esigenze ci siamo spostati... Ok. Ci siamo spostati a Ponte Cagnano, dove, che devo dire, il pubblico di Ponte Cagnano viene sempre a vedere le nostre partite con striscioni e logo grande. E torniamo qui sulle onde di Radio Castelluccio RCS 75 con Destinazione Sport. Io sono Lino Grimaldiavino, c'è con me Isabella Lamberti e siamo qui, ci stiamo quasi per salutare. Regia, giusto un attimo, quanto abbiamo? Un minuto e mezzo. Questo è tutto. Allora io me lo sfrutto bene, se tu permetti. Certamente. Allora, nel mondo che cosa è successo? Ci sta... Vediamo un po' di sport news dei nostri italiani all'estero, dato che mezza Italia è ferma a causa del coronavirus. C'è Federica Brignone, che ha vinto per la quarta volta a Kranz Montana, praticamente ci ha messo l'abbonamento per vincere là, e ha raggiunto quota 1.298 punti, ed è al comando della classifica generale nella Coppa del Mondo di Scena. Per quanto riguarda i test della MotoGP, siamo al terzo giorno, e Valentino Rossi nel terzo giorno, diciamo che, ha iniziato ad andare un po' un maluccio, e ha chiuso con il nono tempo, però peggio ha fatto il campione del mondo, Marquez, che la sua migliore prestazione è stata con il quattordicesimo crono. Gianluca Magger, per quanto riguarda il tennis, cede in finale al celeno Christian Garin. Nella ranking dell'ATP Ligure scala ben 51 posizioni, e nella top 10 degli italiani, nella top 10 c'è Berrettoni, Berrettini come il miglior italiano, e un passo fuori, un dicesimo, c'è invece Fognini. Per quanto riguarda il fenomeno, Gianni Kersinner è il 75esimo, dopo che si è arreso agli ottavi di Marsiglia, contro Medvev, e ha vinto il primo set, Medvev è comunque il numero 8 del mondo, se ricordo bene. Per quanto riguarda l'almanacco del giorno, gli sportivi nati oggi, c'è Alan Prost, se qualcuno se lo ricorda, ha vinto quattro mondiali della Formula 1, e 51 Gran Premi, e io controllo ricordo nei suoi scontri con Ayrton Senna. Oggi è nato anche Ciccio Baiano, che compie 56 anni, è nato a Napoli, ex attaccante di Napoli, Empoli, Parma, Avellino, Foggia e Fiorentina. Con lui è nato il mito di Zemanlandia. E ci siamo quasi, ci stiamo per salutare, è stata una bellissima puntata, molto ricca, sono molto contento di aver avuto con me Isabella Lamberti, che ci ha parlato quindi del calcio A5. Grazie mille per l'invito. Sono molto felice di aver fatto una puntata così ricca, quindi arrivederci a tutti, Lino Grimaldiavino, Destinazione Spot, ci vediamo lunedì prossimo. Va benissimo. Arrivederci a tutti. Grazie. 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 Grazie.